Raido. Le rune sono 24 e vengono suddivise in tre gruppi composti da otto rune. Questi simboli sacri non sono solo un mezzo di divinazione, ma una porta d'accesso al mondo dello spirito e rappresentano un potente mezzo per manifestare i propri intenti e per proteggersi dalle avversità. Raido rappresenta il cargo, il viaggio. Questa runa è collegata alla misurazione del tempo e la relativa relazione con esso. È quindi la runa che rappresenta il movimento, il ritmo e il viaggio. Proprio per questo può aiutare ad effettuare dei viaggi sciamanici più nitidi. È l'unione dell'io e del tu, del cielo con la terra. La runa ci indica che per arrivare dove previssati vi sono due strade, una dritta ed una con delle deviazioni. Ci comunica però che l'obiettivo e il punto finale è sempre raggiungibile. Utilizzare la runa raido aiuta a fare viaggi sciamanici, particolarmente nel mondo inferiore, ad ascoltare i propri ritmi e trovare la propria pace interiore, ad affrontare cause legali, a proteggere durante i viaggi sia materiali che spirituali. Aiuta anche a superare le ingiustizie e a ritrovare lo scopo della propria vita, mostrando la giusta direzione da percorrere. La pietra legata a raido è in turchese. La frase legata a questa luna è Sembra facile la cavalcata a chi sta dentro una casa, ma un'impresa coraggiosa a chi sta in viaggio sulle strade principali in groppa ad un cavallo di busto. Se sei interessato ad intraprendere un vero e proprio percorso sciamanico, ti consigliamo di visitare il nostro sito internet www.giosuestarlos.it www.giosuestarlos.it www.giosuestarlos.it